Due settimane fa ho realizzato un video in cui tracciavo le navi della Guardia Costiera Italiana e delle ONG per vedere dove effettivamente si spingessero con le loro navi. È diventato subito virale sui social network, oltre 2 milioni di visualizzazioni sulla mia pagina Facebook e 300.000 sul mio canale YouTube. Da allora, che cosa è cambiato? Proprio qualche giorno fa migliaia di profughi sono sbarcati in Sicilia. Alcuni giornali mi stanno rendendo il lavoro difficile perché non riportano più il nome delle navi negli articoli, ma solo indicazioni generiche sulle operazioni. Ma cercando con calma sono riuscito comunque a trovare di quale navi si tratta. Una di queste è l'Aquarius, che partita dalla Sicilia e si è recata nella solita zona a 14 miglia nautiche nella costa della Libia, recuperando circa un migliaio di profughi, per poi fare ritorno martedì 21 al porto di Catania. E possiamo vedere che negli ultimi 60 giorni anche le navi della Guardia Costiera Italiana è stato possibile tracciarle perché tenevano il transponder AIS attivo e non sempre così per navi governative o della marina militare? Si sono spinti in più occasioni fin davanti alla Libia, ben oltre le 138 miglia nautiche a sud della Sicilia, che sarebbe l'area di ricerca e soccorso prevista dall'operazione Triton dell'Agenzia dell'Unione Europea Frontex, che ricordo a tutti ha rimpiazzato l'operazione Mare Nostrum dal 1 novembre 2014. Tornando sull'ONG, qualche settimana fa erano attive solo la Aquarius e la Golf Azzurra, adesso si sono attivate anche la Minden, la Sea Eye e la Juventa. Marine Traffic mette a disposizione uno strumento chiamato Density Map che permette di capire a colpo d'occhio quali sono le rotte più percorse, che vedete evidenziate in rosso. Questi sono i tracciati aggregati di tutte le rotte del 2015 e questo il 2016. Notate la concentrazione di traffico fra Zurava e Tripoli, proprio dove avviene la quasi totalità delle operazioni di salvataggio dei profughi. Su queste vicende, sull'operato delle ONG, sono state aperte delle indagini. Vedremo in futuro quali saranno gli sviluppi. Grazie.